Ciao Giada! Oggi cos'è arrivato? Un pacco! Un pacco di chi? Chi te l'ha regalato? Rikki! Chi è Rikki? Un fratellone! Tu fratellone! E? Vediamo cosa c'è dentro? Cosa ti avrà portato Amazon? Oh! Oh! Che cos'è? LOL! Una LOL! Finalmente! Anche noi entriamo nel magico mondo LOL! Ufficialmente! Vediamo! Adesso dobbiamo capire come si apre! Ma scelte! Allora vediamo un po' come si apre! Facciamolo vedere! Allora intanto è una LOL surprise bling! Quindi quelle con i glitter! Tutte glitterate! E dentro possiamo trovare tutte queste cose! Giusto? Quante! Sette cose ci sono dentro! Sette! Dobbiamo iniziare a scartarla! Sì! Ma cosa si fa? Adesso ti dà una mano la mamma! Aspetta! Sì! Sì! Allora vediamo! Dopo lo faccio io però! Perché dovrebbe esserci la cerniera! Quindi devi tirare dove c'è la cerniera! Qua! Qua! Scarta! 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 E il primo strato se ne va! Cosa c'è nel primo strato? Hai trovato qualcosa? No! Ancora niente! Però scusa io vedo qualcosa! Cos'è questo? Oh! Facciamo vedere! È un indizio! Chissà cosa vuol dire! Io che di LOL non me ne intendo! Non ne ho la più palida idea! C'è scritto GLOW UP! Come le Miracle Tools Up! Come le Miracle Tools Up! Hai trovato qualcos'altro? Sì! Farlo vedere senza romperlo! Cos'è? Vediamo! Oh! Ho sentito! Si è tolta tutta? C'è! E l'abbiamo aperta! Quante bustine ci sono? Quante? 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 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei sacchettini! Guarda! E queste? Chi troviamo lei? Sono le LOL che potremo ritrovarci! Giralo! Qualcosa dietro? Oh! Una storiella! Che belle! Ok! Io direi che possiamo partire dai piccoli! Dai pezzi piccoli o da subito dalla LOL? Dalla LOL! Dalla LOL! Va bene! Oh! E gli occhi! Mi sembra bellissima questa LOL! Eccola qui! Bellissima! La nostra prima LOL! Che meraviglia! Abbiamo trovato un brillantoso biberon! Fa vedere! Uh! Bellissimo! Che più difficile di quello che potremmo sembrare! Vado a vederlo! Oh! Mamma mia! Wow! Fallo vedere bene questo vestitino! Anche questo è glitterato! E cos'è? Cosa c'è lì? Bellissimi valetti! Anche loro tutti glitterati! Che meraviglia! Oh! Wow! E gli occhiali! Oh wow! Troppo glam! Attenzione che li rompiamo! Attenzione che li rompiamo! Dentro! Che cos'è? Un braccialetto credo! Vediamo! Vediamo! Sì! Fallo vedere bene con la mano! Un braccialetto! Ecco il braccialetto! Fucsia! Questa è la nostra LOL! La prima in assoluto che troviamo! Questi sono tutti gli accessori che c'erano dentro! E il suo nome! Honey Bun! Io la trovo carinissima! È tutta glitterata! Non sappiamo ancora che cosa sa fare! Quindi la dovevo mettere in acqua e scoprirlo! Ma lo scopriremo insieme! Bellissima! Bellissima! Siamo contentissime! Invece gli altri che abbiamo già sono loro! Abbiamo una Lilla e un animaletto! E questo è quanto! Questi sono tutti i nostri amici della famiglia LOL Surprise! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Ciao!